Con il 2022 la Fondazione Maria Bonino sostiene un nuovo progetto, il Makyungu Hospital, realtà fondamentale della regione di Singida in Tanzania. Il progetto, fortemente voluto da padre Alessandro Nava e dalla farmacista dottoressa Manuela Buzzi, prevede cure sanitarie gratuite garantendo farmaci, test diagnostici, interventi chirurgici ed egenza per i bambini da 0 a 5 anni provenienti dal distretto di Ikungi e da molti villaggi della Rift Valley. È un intervento che sopperisce alla difficile realtà sanitaria in una regione molto povera, con un clima secco e piogge scarse, la cui popolazione vive di agricoltura e allevamento del bestiame. Alle famiglie dei piccoli pazienti sarà richiesto solo un contributo simbolico, sollevandole così dal dover pensare alle cure sanitarie. Ricordiamo che la Fondazione Maria Bonino ha a cuore la salute di mamme e bambini dell'Africa, a sud del Sahara, e interviene con progetti concreti in vari ambiti della sfera materno-infantile. Sostiene la formazione scolastica e professionale dei giovani. I suoi passi di Maria Bonino coltiva il sogno di consegnare nelle loro mani le opportunità necessarie a diventare parte attiva nella crescita del loro paese. La Fondazione, nata nel 2006 con l'intento di proseguire l'opera della pediatra biellese Maria Bonino, morta in Africa nel 2005 a causa di un'epidemia di morbo di Marburg, si pone ora un nuovo obiettivo, quello di riuscire a intervenire in modo determinante sulla prevenzione di casi gravi dovuti al ritardo nella cura medica a causa dei problemi economici delle famiglie.